Seconda parte di Rassegna Stampa dedicata allo sport, abbiamo già visto in chiusura della prima parte come Terni festeggia Petrucci e ripartiamo proprio dal successo del Centauro Ternano nella MotoGP. Si legge nelle pagine del Corriere appunto Petrucci nella storia insegue il mito di Liberati. Il pilota della Ducati vince al Mugello il suo primo gran premio nella MotoGP, un ternano, torna sul gradino più alto del podio della classe regina dopo ben 62 anni. Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, la città è orgogliosa del suo campione e dichiara Festa Ancapolino, paese natale della famiglia, era piccolo e già sfrecciava sulle nostre strade, ricordano per l'appunto 9. Il numero sulla carena della moto scelto ispirandosi a un cartello stradale che indicava la strada per Arrone in Valnerina. Questo è il significato del pilota classe 1990 nativo proprio di Terni. 124 le gare, prima di assaporare la gioia del successo, è arrivato per giunta sul circuito italiano davanti ai suoi sostenitori e tripudi all'ultimo giro da Rolando per quanto riguarda il fan club. Chi non era al Mugello era qui a tifare, si legge, si fa anche il punto sulla gara, quella staccata aggressiva che ha incoronato proprio il pilota della Ducati. Il precedente, il concittadino Paolo Pileri, portò a casa l'ultima vittoria nel 1978 ma era nella classe 2.50. Il ritorno atteso a Palazzo Spada, braccia aperta dalle istituzioni, da tutta la cittadinanza. Poi anche l'intervista, lo sfogo a caldo, la risposta a chi si chiedeva come mai non avessero puntato su altri piloti, dichiara proprio un davvero incontenibile Petrucci. Una gioia incredibile, corono il sogno di una vita. Queste le sue parole, si fa anche un po' la scheda proprio del pilota qui con molti più capelli ad inizio carriera. Assieme a Giampiero Sacchi, team manager Ternano che lo lanciò con il team Loda Racing, dieci anni fa il primo alloro. L'europeo Superstock, mille tra i big della specialità, il salto di qualità con la Pramac, si legge nel Corriere. L'altra volta sul podio c'era fallito in sei occasioni la prima proprio sulla pista che lo ha visto ieri trionfare, ovvero quella del Mugello, dunque così celebrato sul Corriere e poi lo vedremo anche sugli altri giornali, il trionfo di Petrucci. Ma passiamo ora al calcio, sempre sulle pagine del Corriere. Grifo, è l'ora della scelta, si legge qui le foto, sono quelle di Fabio Grosso che è il candidato principale per la panchina, l'outsider è Massimo Oddo, qui in foto Goretti e Santo Padre che dovranno prendere la decisione. Comunque dopo i contatti recenti con Grosso e Oddo si passerà ora all'incontro con Santo Padre, due campioni del mondo di Berlino che sono sempre stati i favoriti per la bianchina bianco-rossa. Occhio però, si legge sul Corriere alla sorpresona, Bucchi ha trastato il terreno per capire se c'è spazio per un ritorno. Intanto in un Curi deserto il tricolore dell'Avellino, vittoria rigori contro il Lecco per gli Arpini, questo è successo nella finale di Puscu, detto Serie D lo scorso sabato, mentre per quanto riguarda i play-off finisce il sogno Cittadella, Lella Sverona torna in A3-0. Dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata ha ribaltato dunque la situazione della formazione scaligera. Ieri sera va segno pure l'ex Perugia di Carmine con i Patavini che chiudono per alto con due espulsioni in 9 uomini. Ha giocato nel secondo tempo il difensore Eugubino Cancellotti. Per quanto riguarda invece la Sir Perugia, mondiale per club, stavolta sì. Il presidente Sirci, pentito di non averlo fatto, quest'anno ci andremo di corsa. Il numero uno della Sir, chi ha partecipato e arrivato in fondo alla stagione in buone condizioni fisiche. Per quanto riguarda invece la questione allenatore, conta la rovescia per il faccia-faccia con Lorenzo Bernardi, qui proprio durante un time-out con i suoi ragazzi. Per quanto riguarda invece la nazionale, l'Italia e il russo chiudono con un successo in Cina. Gli azzurri ora si spostano in Russia per giocare dal 7 al 9 giugno la Pool 6 della Volleyball Nations League. Torniamo al calcio, Serie C, Fere, lavori in corso, al centro lì dietro c'è un nuovo. Fazio qui in foto. La società si rituffa nel mercato alla ricerca di un terzino di ruolo fulla destra. Il siciliano torna a fare il marcatore. L'allenatore Gallo e il DS Leone stanno costruendo la rosa per il prossimo campionato. L'extrapani sarà un punto fermo. 25 partite, quelle nelle quali Superlito ha agito da esterno dello scacchiere. 8 gare e tanti sono i match in cui il mesinese è stato il capitano della squadra. Si legge anche basta con i giocatori adattati. L'idea è quella di non snaturare le caratteristiche dei calciatori. Per quanto riguarda le giovanili invece il tecnico della Berretti Mariani suona la carica. Pronti a festeggiare. Dichiare il tecnico e i suoi sono in finale scudetto di categoria. Sotto ora con l'ostica Entella. Un precedente fa ben sperare. La Coppa Italia finì 3 a 2 con i Ternani proprio in festa. Dunque vedremo se riuscirà a vincere l'ambito trofeo la Berretti della Ternana. Gubbio Calcio che si apre alla città. Si legge sempre sul Corriere l'annuncio del presidente notari. Qui in foto presti manifesti per convocare una riunione rivolta a tutti quelli che ci vogliono dare una mano sul serio. Vorrei più partecipazione. Queste le sue parole. Il patrone a 360 gradi. La vecchia curva scoperta in cemento e supporters. Perché no? Dichiara. Se ne parla all'interno del Corriere. Poi la cena. Lo staff sanitario funziona anche a tavola. Una bella serata. Qui i propri membri dello staff sanitario della Gubbio Calcio in foto. Passiamo al calcio dilettantistico. Foligno. Tre big e un'asta a Foligno. Gorini. Pettinelli e Giabbe Cucci ancora in bianco-azzurro. Qui foto della conferma avvenuta ai tre giocatori. Su Cenerini però invece per quanto riguarda un acquisto che potrebbe essere utile in difesa. C'è il Trestina. Quattro pedine da inserire. Sono le priorità per quanto riguarda il DS Cuccagna. I confermati come hai visto sono stati tutti presentati alla stampa. Tomassini, Colarieti e Silla. Gli obiettivi per quanto riguarda la prossima annata. Intanto il responsabile dell'area tecnica Ortolani lascia Cannara. Sfida vinta. Grazie a tutti. Ma il mio è solo un arrivederci. Dichiara proprio Giampiero. Ortolani ormai ex rosso-blu. All'Angelana intanto è Gervasi in nuovo DS. Sandriani. Idea congelata per la panchina. Si legge. Potrebbe essere l'ex allenatore del Gubbio. Il prossimo trainer della formazione assisana. Intanto Vis, Foligno, Angelini e Proietti per il dopo Bingarelli. Sbrinoschi intanto è il terzo acquisto del Petrignano. Torna dunque in Umbria. Il centrocampista che giocava in Germania. Nelle categorie dilettantistiche tedesche. Prima categoria invece. Todi, i gol e l'entusiasmo. Ufficializzato Bomber Gammaidoni. Qui in foto assieme al direttore sportivo del Todi, Capoccia. Che coppia con Tarpani. 78 anni in due. Si legge sul Corriere. Il colpo del DS Capoccia. Riempiamo il martelli. Il club merita altre piazze. Con l'oramai ex FC Castello che ritorna a casa. Mister Belli sarà la guida dei Biancorossi. Mentre per quanto riguarda l'under 15 di calcio a 5. L'atletico Gubbio chiude secondo nella corsa allo Scudetto. K.O. per 3-0 con Bologna nella finalissima del Palacari Sport di Cesena. Però davvero una cavalcata quanto mai pregevole per la formazione di Mister Bartocci dell'atletico Gubbio. Ciclismo invece. Greco, Nicoletti e Lari in trionfo. Si legge sempre sul Corriere. Si è conclusa con un grande successo l'ottava edizione. Assegnate anche i tricolori di mediofondo. FIC. Le tre medaglie rosa del Giro d'Italia amatori hanno fatto festa nell'ultima tappa a Pretola. Questo per quanto riguarda dunque anche il ciclismo. Poi motocross. Bittarelli in festa a casa sua. Brinda pure Torroni a Gioiella. Parliamo dunque zona limitrofa Castione del Lago. Il Castiglionese e il Pilota di Paciano hanno dominato nelle categorie amatori, puri e under 35. Tornando al ciclismo. Junior Pantalla è secondo al Gran Premio Santomero. Per quanto riguarda appunto i portacolori dell'Unione Ciclistica Foligno. E sempre per quanto riguarda il Foligno. Brunori della Team Forte Braccio cala il Tris a Montone. Atletica invece un 5.000 da favola. Tamburi e Malfagia trionfano in pista. Successo pieno per la prima edizione della corsa organizzata dall'Avis Perugia al Santa Giuliana. 75 agli iscritti. Per le gare più lunghe si sono presentati in 54. In 20 per il doppio giro e uno nel Miglio. Disputati anche gli 800. Signore e cadetti. Alla fine hanno fatto centro. Grilli, Ghigi, Rosi e Bartoli. Per questa bella iniziativa di Atletica a Perugia. Atletica Master, Bagnoli è il campione italiano dei 10 chilometri su strada. E poi il tennis Passaro esordiono a Roland Garros. Ora gioca però il doppio a Parigi il portacolori dello Junior Tennis Perugia. Podismo invece. Le Minci e Enrique Zaltop sono primi alla Ruralissima che si è disputata a Spello. Era il quinto cross country for autism e a limiti proprio di Spello. Tennis under 16. European Tour si fa sul serio sui campi veloci del CT Foligno. Al via le sfide dei tabelloni principali maschili e femminili per l'appunto. Questo dunque sul Corriere dell'Umbria. Passiamo allora allo sport anche sulle pagine del Messaggero. Messaggero, Messaggero che apre anche qui celebrando Danilo Petrucci che trionfa al Mugello con la corsa perfetta. Ecco perché la Ducati ha scelto me. Si toglie anche qualche sassolino. Il pilota Umbrio ho dimostrato che valgo queste le sue parole. Il padre rincara, l'abbiamo fatta grossa, dicevano che era grasso e che andava solo sul bagnato e invece ha superato tutti. Qui le foto dei festeggiamenti. Questa vittoria ci ripaga di tanti pregiudizi e dei momenti più difficili che abbiamo passato. Sempre modesto, quasi si scusa con dovizioso che alla fine è arrivato terzo dopo Marquez. Continuerò ad aiutarlo a vincere, dichiara il Ducatista. Sempre in sella, dal debutto con le minimoto al sogno della MotoGP, una vita segnata dalla passione per le due ruote. Qui una foto proprio di Petrucci sulla sua prima minimoto quando era davvero piccolissimo. Ancora in bianco e nero, peraltro la foto del pilota classe 1990. Tornando al calcio, il grifo sogna Super Falcinelli. Il bomber perugino in uscita a Bologna cerca una squadra per rilanciarsi e Goretti spera in una sua scelta di cuore. Sì perché Falcinelli è proprio di Perugia, esattamente di Ponte. San Giovanni, lo sbarchi rosso-blu di Walter Sabatini, elemento chiave per convincerlo a tornare. Colmando il gap economico. Vedremo se ci sarà questa Amarcord che ovviamente sarebbe anche un gran colpo per la Serie B. Italiane desperte, così le rose da promozione. Si fa una statistica sotto questo punto di vista sul messaggero che poi parla anche delle babyfere. Vogliamo la storia, il virgolettato. Niente festeggiamenti per gli atleti della Ternana Juniores. Il mister Mariani non devono perdere la concentrazione. Venerdì a Novara si gioca la finale Scudetto con Lentella. Partono avvantaggiati ma noi abbiamo voglia di vincere. Sempre a Terni, Brilla in Bulgaria. D'Argento la sciabola da parte di Lucia Lucarini, qui in foto sciabolatrice nativa di Narni. Parlando invece sempre di calcio. Gubbio importa il baby Mazzini dall'Atalanta per quanto riguarda dunque le scelte qui in foto. Proprio il portiere Stefano Mazzini di proprietà della società orobica. Lo Spoleto intanto spera ancora nel salvataggio per quanto riguarda questo caso. Qui si parla ovviamente di eccellenza. E poi gli avvocati perugini intanto sbancano Malta. Foto di gruppo qui per gli avvocati perugini. A Traspelta Malta si è rivelata molto soddisfacente sia per i risultati sul campo che per gli incontri istituzionali con i colleghi maltesi. Quindi continuando sempre con lo sport si parla sempre di calcio con questa notizia che riprende un po' anche il mercato del Foligno Calcio verso la prossima serie D. La società adesso ha bisogno degli under e di fatti la rincorsa ai baby è titolato il difensore Colarieti del Cannara e Silla del Lama sono nel mirino. Tra gli obiettivi anche l'attaccante del Pineto Tomassini ricorderete ha vinto due anni fa il campionato con il Villaviaggio ex anche Gualdo Casagastalda che potrebbe sostituire Francioni qui in foto l'attaccante bianco-azzurro troppo spesso infortunato ma anche molto spesso decisivo bisogna dirlo quando ha giocato in questa stagione. Bastia intanto, Bolletta e Berrettoni sono stati presi proprio dalla società Bastiola Cannara pronta la ripartenza per quanto riguarda il punto sulle Umbre dunque di questo dunque sulle pagine del Messaggero. Chiudiamo con il QS quotidiano sportivo inserto della nazione per quanto riguarda appunto le notizie di sport che già dalla prima pagina torna sul trionfo di Petrucci, Rosso Gloria si legge con la foto di Petrucci esultante, trionfa al Mugello battendo Marquez e Dovizioso la Ducati si conferma imbattibile nel GP d'Italia, poi nei tagli in basso Ternana e Febbra Bonamenti Gubbio al via il mercato, Serie B invece Perugia panchina oggi grosso si libera dal Verona anche Oddo da Santo Padre qui in foto. Subito all'interno il trionfo di Petrucci anche sul QS, fantastico Petrucci è il primo trionfo Ducati ancora Regina per quanto riguarda proprio il circuito del Mugello dopo 8 anni di classe Regina il Terrano si sblocca, batte Marquez e Dovi che ringrazia proprio Dovizioso, lo stesso Petrucci mi ha praticamente adottato da quando siamo nello stesso team queste le sue parole, qui il podio proprio con Petrucci in mezzo, vincitore tra Marquez secondo e Dovizioso terzo, qui la foto festante da parte proprio di Danilo Petrucci a cui come Pagelle del MotoGP è stato dato un 10 assoluto per quanto riguarda la sua prestazione avvenuta ieri davvero supersonica. Si parla poi sulle pagine del QS di calcio, Serie B, Perugia al lavoro tra panchina e mercato, grosso oggi il Verona e poi Santo Padre. Il tecnico si libera dal vincolo con l'Ellas che come abbiamo visto è stata promossa in Serie A e aspetti il faccia a faccia dal Presidente pure Oddo per quanto riguarda dunque la scelta che sembra essersi ridotta a questi due nomi. Inizia la settimana calda per la panchina, superati i primi esami, ora i tecnici affronteranno il massimo dirigente ovvero Santo Padre. Intanto Frosinone, Via Baroni, Nesta proprio fino a poche settimane fa, tecnico bianco-rosso, è in pol per sostituirlo Frosinone retrocesso dalla A in B. Intanto domenica il corteo con i tifosi che festeggiano 114 anni di storia. Questo per quanto riguarda dunque il Perugia. Ternani invece, febbre abbonamenti, oggi scatta la vendita libera, prezzi bassi per riportare il pubblico allo stadio. Sempre Serie C, Gubbio su carne secchi, contatti con l'Atalanta, si parla dunque di mercato qui in foto, il nuovo allenatore Federico Guidi con il suo vice Cupi e il preparatore atletico Melino che saranno proprio il nuovo staff del Gubbio assieme a Giovanni Pascolini che resta come preparatore dei portieri. Serie D, nuovo Foligno, preparazione al Via il 15 di luglio. I falchetti disputeranno un amichevole contro l'Ascoli, Cenerini e Silla nel Mirino. Eccellenza Sandriani alla guida dell'Angelana, l'ex allenatore del Gubbio dunque sembra essere il prescelto per guidare la formazione giallorossa a Sisana. Loris Gervasi sarà il DS, Simone Tarpanelli invece direttore generale. Cannara al lavoro invece per la prossima stagione, nei prossimi giorni verrà convocata l'Assemblea per le cariche in Serie D. E poi Sir Perugia e braccio di ferro. Bernardi alla panchina della Russia, polemica sulla candidatura. Il nodo da sciogliere riguarda il contratto che lega il coach ai bianconeri per un altro anno. Il presidente Sirci parla in tv, c'è l'intenzione di convocare il coach nei prossimi giorni e chiedere spiegazioni. Il procuratore di Bernardi, Mattiasevic, dichiara, è vero che ho detto al DS Recine che coach Bernardi dovrebbe avere uno stipendio più alto. Queste le sue parole per una questione che non sembra davvero risolversi con le buone qui proprio in foto. Sirci e Bernardi assieme al suo giocatore Leon. Per quanto riguarda le altre notizie a uno femminile Bartoccini, l'opposta Smirnova e ai saluti Iacone. Enormi interesse da parte del tessuto imprenditoriale, queste le sue parole. Poi anche gli arbitri di volley, Cuccolini, Magnino e Vagni, protagonisti in finale. Il Tifernate e Santi invece alla ribalta in Turchia. A due femminili, Zambelli e Orvieto, nessuna retromarcia. Dopo aver sfiorato la promozione, il club rinuncia alla categoria. Verso la National League sale d'attesa, favoriti. È un onore tornare nella mia terra per quanto riguarda la manifestazione che arriverà anche in Umbria. A due maschile, Monini, titolo ceduto. I tifosi, perdita grave per lo sport, si legge. Mentre ad Umbertide, successo per la maratona di pallavolo al Pala Morandi. Continuiamo poi con la pallacanestro. Si riparte da Contu, a due femminile. I piani del coach dopo la conferma. Intervista al confermato tecnico della pallacanestro femminile Umbertide, Sandro Contu. Inci Silver, sacrifici ripagati. Il virgolettato è del presidente della Virtus Assisi. Gnavolini, felice per la vittoria della Dondi, che ha vinto il campionato di C Silver, dunque passando, essendo promossa in C Gold. C Silver, invece, a spello, esplode la gioia, storica conquista della promozione. Lo spello che ha battuto il gubbio nella finale playoff di Serie D ed è salito proprio in C Silver. Parlando invece di C Gold, sempre sul QS, Sicoma Valdiceppo, il coach formato, analizza il secondo posto, fiero dei miei ragazzi, dichiara. Bifemminile, Angelo Bondi sulla panchina dell'Azzurro Arvieto. C Gold, UBS Foligno, confermati Mariotti e Rat, confermato anche Anastasi per quanto riguarda la formazione allenata dal coach Paolo Pierotti. Andre 14 maschile, Final Four ai nastri di partenza, si gioca a Città di Castello, Serie D. Atomica Spoleto, pensa al futuro. Niente promozione, ma il team già sogna. Chiudiamo con queste ultime due notizie. Tennis Under 16, prime teste di serie con Piesovski e Dimitrova al top a Foligno e poi il podismo a spello. La vittoria di Leminci, ruralissima tra le donne, invece. Enriquez Super si legge. Questo per quanto riguarda dunque le notizie sportive odierne. Siamo in chiusura, ma non prima ovviamente di aver visto le previsioni meteo per la giornata odierna. La sigla. E la giornata di lunedì 3 giugno si aprirà con cieli nuvolosi su tutto il territorio regionale. Nel corso della giornata, cieli nuvolosi su tutti i principali centri cittadini della regione con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale più probabili lungo le zone appenniniche. Parzelle di miglioramento in serata con la cessazione dei fenomeni. Temperature se minime che massime il leggero caro. Le prime comprese fra i 7 e i 9 gradi, dunque un po' calate. Mentre le seconde tra i 18 e i 22 gradi rispetto agli ultimi due giorni dove il caldo è stato grande protagonista. Anche il sole ovviamente forse torna una piccola perturbazione, ci dice Rick Meteo. Gubbio è tutto per quanto riguarda l'appuntamento. Questo appuntamento con la rassegna stampa che torna domani come sempre all'ora 7.30 sempre su TRG. Stasera gli appuntamenti informativi con il TG e il TG Sport. Intanto l'augurio è quello di una felice settimana a tutti voi e buon proseguimento con i programmi della nostra emittente. Grazie a tutti.